Kate Middleton Kate Middleton, qual era il secondo vestito per il suo matrimonio? Dalle migliaia di foto delle nozze reali tra Kate Middleton e William è emerso, a sei anni di distanza, un particolare che ha sorpreso i fan, la principessa più amata del mondo ha indossato un secondo vestito da sposa per il suo matrimonio. Come era fatto? Ecco tutti i dettagli. Kate Middleton aveva due abiti da sposa, ecco il secondo. Cambiarsi d'abito durante le proprie nozze pare sia diventata un'abitudine piuttosto comune e, in effetti, anche Kate Middleton ha indossato un secondo vestito per il suo matrimonio. . . Da quel 29 aprile 2011, ormai, sono passati sei anni, ma i fan della coppia reale continuano a sfogliare le foto dell'evento, tra lo scatto di un romantico bacio principesco e il sexy lato B di Pippa Middleton, che ha fatto molto parlare di sé in quel contesto, è emerso un dettaglio a cui in precedenza non si è dato molto peso. . Ebbene sì, la duchessa di Cambridge ha cambiato il regale abito da sposa dopo la grandissima cerimonia Westminster Abbey, mettendosi più comoda con un vestito più semplice, per poter proseguire i festeggiamenti a Buckingham Palace senza l'impiccio del chilometrico strascico nuiziale. . I due abiti sono stati realizzati entrambi da Sarah Burton per la Maison di moda Alexander McQueen, dunque in un primo momento si era semplicemente ritenuto che la bellissima moglie di William si fosse semplicemente alleggerita, togliendo strascico velo e dando al vestito da sposa un allure raffinata ed elegante ma, diciamo cielo, più confortevole. . Non è così però, i vestiti sono effettivamente due e, dalle foto che sono rispuntate in questo periodo, è assolutamente evidente in ogni loro dettaglio. . 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 Con un accenno di boccoli finale. Il diadema? Non c'è, e nemmeno il velo, nello strascico, il look della meravigliosa principessa è più semplice, ma elegante e glamour come solo lei sa essere. E il suo charme, già da questi primissimi momenti come moglie di William, è già perfettamente visibile e conquista tutti, ecco Kate Middleton, la principessa della porta accanto.